Strada cara anche al Movimento 5 Stelle, quella di chiedere ai cittadini un parere sugli argomenti decisivi per i popoli. L'Unione Europea deve cambiare altrimenti muore, scrive Grillo sul suo blog, che non chiede l'uscita dall'Europa, ma invoca un referendum sulla moneta unica. Continueremo a chiedere ai cittadini di esprimersi sulle questioni europee. L'euro è una questione molto importante. Il Movimento 5 Stelle è per un'Europa dei popoli, per un'Europa dove gli Stati collaborino in condizioni di parità e di uguaglianza, come dice l'articolo 11 della nostra Costituzione.